La famosa showgirl Wanda Nara sarebbe incinta del rapper argentino Elegante, secondo i media locali. Nonostante non ci siano conferme dirette da parte della coppia, la notizia ha scatenato un vero e proprio clamore. Wanda Nara, che ha già cinque figli, di cui tre con l'ex marito Maxi Lopez e due con il marito attuale Mauro Icardi, avrebbe avuto un flirt con Elegante nel 2022. Le voci sull'attesa di un bambino da parte di Wanda Nara Elegante sono state diffuse dalla giornalista Janina Latorre, esperta di cronaca rosa in Argentina. Secondo quanto riferito dalla Torre, il rapper avrebbe confermato che la coppia sta aspettando la fine del primo trimestre di gravidanza. Al momento però, né Wanda Nara né Elegante hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. La notizia ha avuto un impatto immediato su Mauro Icardi, marito di Wanda Nara, che sarebbe partito immediatamente per Buenos Aires non appena ha preso la notizia. Secondo il giornalista Pepe Ochoa, Icardi avrebbe preso il primo volo disponibile per l'Argentina dopo aver ricevuto la conferma della gravidanza della moglie da parte di Elegante e aver parlato con un'ostetrica. La situazione sembra essere molto chiara per Icardi, che ha deciso di tornare in patria per chiarire la situazione e prendersi cura delle figlie. Questa inattesa notizia ha scosso il mondo dello spettacolo argentino, attirando l'attenzione dei media e del pubblico su questa presunta gravidanza di Wanda Nara da parte di Elegante. Resta da vedere come evolverà la situazione e se la coppia confermerà ufficienza.